La caduta è la prima sensazione che avverto. Voci distanti riecheggiano nella mia testa. Sono ordini molto chiari, ma io non riesco che a pensare agli altri. Remiele, Uriele, Amitiele, Ituriele, Raffaele, Michele. Ognuno di loro ha fatto questo percorso. Qual è stato il loro destino? Cosa mi attende dall'altra parte? Sono andati in un luogo in cui la luce è maledetta e l'oscurità acceca l'anima. Un luogo che persino gli angeli temono di attraversare. Un luogo che persino gli angeli. Un luogo che persino gli angeli. Un luogo che persino è l'ambiente. Castiel. Non ho capito che non mi sono. Un luogo che persino. Un luogo che persino. Un luogo che persino. This is your problem Dean. You have no faith.